Bella a tutti ragazzi, io sono Tita03 e io sono Unicorn. Questo video non sarà lungo, ma sarà... Come vedete è in bianco e nero perché è triste. Volevamo scusarci della nostra assenza da YouTube, ma abbiamo avuto dei piccoli problemi relativi alla scuola. Infatti lei adesso sta facendo gli esami. E quindi questo video è stato ritagliato in un tempo tra i libri, la scuola, gli amici, il Grest. Io ho dovuto abbandonare Unicorn, tra virgolette, perché è finita la scuola mercoledì scorso e oggi siamo già a mercoledì, quindi è passata una settimana. Io da mercoledì a domenica ho dovuto studiare come un bue, perché lunedì avrei dovuto iniziare gli esami. Perché il bue studiamo? No, perché nel senso che i bue sono fuori. Comunque in questo video non dobbiamo ridere. E lunedì ho iniziato a fare gli esami e li finirò venerdì, cioè dopo domani, con gli iscritti. Finirò tutti gli iscritti. E martedì avrò l'orale, quindi lunedì e martedì. E c'è, infatti... Hai ragione. Ok, allora, perché non so voi che età avviate. Comunque gli esami sono una cosa che distrugge, tra virgolette, perché anche Unicorn non lo può dire. Cioè non è bello avere poi una ragazza come me che esce tutti i giorni, anche per poco, mezz'ora riesce a ritagliarla, per uscire. Anche per Unicorn chiamarmi, non rispondo al telefono perché è insilenzioso, sto studiando. Non è stato bello, vero? No, neanche un po'. E quindi vi volevamo solo chiedere scusa perché sappiamo anche noi che da tantissimo che non facciamo video. E quindi volevamo anche chiedervi appunto scusa. Dopo martedì avremo... Cioè io avrò tutta l'estate davanti, poi vabbè avrò il Grest, ma comunque il Grest è una cosa facoltativa che abbiamo scelto noi di fare, vero? Sì, sì, più o meno. E quindi basta, cioè avremo tutta l'estate e proveremo a portare un video al giorno. Ci proveremo. Di meno naturalmente di un video al giorno, cioè io non ce la farei anche perché lì il Grest finisce 5 e mezza più o meno. E quindi... Arrivare a casa a farsi la doccia perché ragazzi dopo il Grest che ci fanno fare di tutto e di più una bella doccia ci vuole. Ci sta. E basta, concludiamo questo video chiedendovi ancora scusa e ancora una volta scusa, proprio perché ci è dispiaciuto anche per voi. Lo so siete in pochi, no? Siete in 15, ma per voi 15 noi dobbiamo farci in 4, ok? E vabbè, in poche parole vogliamo chiedervi scusa, da più o meno martedì uscirà il video, il prossimo, che abbiamo già preparato da tantissimo tempo, infatti eravamo concesi quando l'abbiamo fatto. E però... Cioè, è molto lungo, è tipo 15 minuti e quindi non dobbiamo tagliare tutto. Dobbiamo editare. L'unico problema è che ci sia rotto il PC su cui avevamo il programma di editing. Il mio. E quindi, tempo che esce dalla riparazione e tutto il resto ci vorrà un po', quindi per il momento avremo solamente video che riusciremo a fare col telefono, oppure da un altro computer che non è la stessa cosa. Infatti, come vedete, dato che il computer dell'Apple ci sono gli effetti... E siamo in bianco e nero perché siamo tristi. No, vabbè, e l'abbiamo fatto in bianco e nero per significare... La nostra tristezza. Ecco, perché non potevamo fare video e tutto. Poi anch'io, negli ultimi giorni della scuola, mi hanno riempito di interrogazioni. Quindi, vabbè, ragazzi scusateci ancora, ma scusateci davvero perché è di cuore questo video. Non lo stiamo facendo così, tanto per dire, vabbè, quando l'abbiamo chiuso, ma chi se ne frega di quelli là. No, non è vero. Cioè, non è una cosa del genere. Alcuni youtuber potranno anche farlo, ma noi non ci sembra il caso. Anche dato che non avremmo aperto questo canale. Infatti ci dispiace molto di non aver fatto i video, però ora, dato che era un video corto, ci dispiace che siamo a 4 minuti e 40 più o meno. E basta, quindi ci vogliamo scusare. Io dopo questo video tornerò a studiare, perché devo studiare tanto, che domani ho la prova nazionale e se sbaglio quella è un bel problemino. Quindi vi diciamo solo, e questo video probabilmente uscirà oggi, domani, dopo domani. Cioè, mercoledì, giovedì o venerdì. Dopo mettete tanti like per farci capire che anche voi ci siete e commentate qua sotto sempre delle cose da consigliarci, che vi potrebbero divertire. Per il momento i giochi che avevamo promesso sul computer non siamo ancora riusciti a farli, perché come ho detto si è rotto il computer e quindi è in riparazione. Comunque, ciao a tutti, ci dispiace davvero tanto e, niente, lasciate like per farci capire che voi ci siete e commenti. Tanti commenti qui sotto, anche se ci sono le mie gambe. Ciao! Ciao!